Ciao a tutti amici di youtube con il vostro Alcatron che vi parla, benvenuti in questo nuovo video Siamo all'ultimo box che mi hanno dato i ragazzi dei Game Lover, che saluto e ringrazio Questo è il box in omaggio che mi hanno dato con Valiant Smasher Ovvero duellanti leggendari Vulcano Gucianima Non so come si dice in inglese quindi per favore perdonatemi per questo Oggi lo sbustiamo, questo sarà l'ultimo video sui tre box Io ci tengo a dire che per l'ennesima volta a salutare e ringraziare i ragazzi del Game Lover Che mi hanno dato in omaggio questo box e in aggiunta con il box dei Valiant Smasher In aggiunta anche per l'omaggio delle OTS insieme alla Rarity Collection In questo box cosa speriamo di trovare? Spero di trovare carte Salamagna perché visto che ho anche il mazzo speravo di trovarlo Io ho adorato il mazzo Salamagna, ho preso il 3x dello Structure Deck di Soulborner E' stato praticamente il primo mazzo competitivo che ho utilizzato nel mio ritorno nel mondo Yugi Il primo vero mazzo competitivo che mi sono fatto Ed è... e mi costava anche poco Quindi io, bando alle ciance, ci siamo dilungati troppo L'intro può anche finire qua E cominciamo subito Abbiamo 36 buste con 5 carte ciascuna Ovviamente le apriremo tutte Vedremo la conformazione come sarà e poi dopo valutiamo Mettiamo il box qua Prima busta Prima busta Eccola qua Allora Salamagna Crestato Salamagna Gazzella Acceleratore Fiammata Pugile Indomito Ambidestro E carica Salamagna Quindi abbiamo Delle Common e poi dopo La Rarità Quindi adesso faremo così Dole in poi Faremo Common, Common, Common E poi ci fermeremo sulla Rarità più alta Quindi Andiamo avanti Common 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 Abbiamo poi una Inferno Vulcanico E la trappola Una trappola super E poi Salamagna Lincepira Che era una Rara Prossima Busta Allora Common 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 Rivificazione Salamagna Ok questa è una trappola Di Salamagna Non lo Vedrò che dopo che trappola è Ecco qua Altra busta Siamo alla quarta Allora Common 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 Percussione Percussione Annullare Vulcanico Scusate il nome perché non riesco a leggerlo al contrario È comunque la Rara È una Rara Passiamo alla prossima Common Common Emissione vulcanica E salamagna Almirai Ok abbiamo trovato Un'altra super Altra busta Common 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 Salamagna l'incepira Nulla di nuovo Andiamo avanti con quest'altra busta Common Common Carica salamagna Prossima common Prossima bustina Common 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 e Salamagna tigre Dovrò leggere cosa va Un tuner Ok Perché qua quanto pare c'è un mostro sincrono Però non si giocherà E poi salamagna Almirai Ok Abbiamo trovato già Una super salamagna Di salamagna Nulla di che Allora Common 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 Razzo vulcanico Common Razzo vulcanico Andiamo avanti Common 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 Numero 79 Pugini indomito Pugini indomito Nova K Kaiser Ok Un altro Un mostro numero Pugini indomito Distrutto Distrutto Allora Common 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 Ecco qua Una ultra Salamagna Esplosione Grifone Ok Questa qua mi sembra che non si giochi Però ha un sincrono abbastanza carino Bu Vabbè E poi dopo abbiamo la salamagna Lincepira Non penso che si giocherà il grifone Però Sembra che qualcuno lo giochi Ma Non so se giocarlo pure io Onestamente Perché salamagna è più che altro un mazzo link Dunque Common 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 E Pugini indomito Gioco di piombo Ok Prossima busta Common 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 E Pugini indomito Capo Secondo Andiamo avanti Common 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 Ehm Percussione Annullare Vulcanico Ok Vorrei trovare anche la Fenice nuova Onestamente Quella lì sembra È bella forte Ha dato un po' più di vita al mazzo Onestamente Meglio Quanto pare meglio Della Pyrofenix Quindi Common 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 E Pugini indomito Gioco di piombo Però che brutto vedere Ruggito salamagna Common Così Ce l'ho ancora super io Vabbè Andiamo avanti Common 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 Pugini indomito Capo Secondo Mi sa che Il box Vuole che io Mi monti Pugini indomito Allora Common 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 Pugini indomito Montante Ok E Salamagna Mirai Nulla Nulla di che Stiamo trovando Più che altro Tante salamagna Mirai E tante Lincepira Ora Common 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 E Contatto Pugini indomito Pugini indomito E poi Razo vulcanico Abbiamo cominciato Una nuova colonna Common 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 E Pugini indomito Ombra Andiamo avanti Allora Common 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 Razo vulcanico Soltato veloce Perché qua c'era Soltanto una cassa Che mi hanno già visto Ora Common 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 Pugini indomito E Nova Kaiser Il numero 79 Andiamo avanti Common 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 Esplu Espulsione Di fuoco E Pugini indomito Capo secondo Prossima Busta Common 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 E Pugini indomito Gioco di piombo A sto punto Mi sa che dovrò Montarmi Il Pugini indomito Vabbè Common 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 Numero 79 Pugini indomito Nova Kaiser Va bene Ora Common 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 Turbina Vulcanica E Percussione Anulare Vulcanico Ok Truppa Vulcanica Scusate Truppa Vulcanica Vogliono che Il box Vuole che mi monti Vulcanico Non c'è Vuole che mi monti Qualcosa che non sia Salamagna In poche parole Comunque Common 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 Pugini indomito Ombra Pugini indomito ombra Avanti Common 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 E Carica Salamagna Va bene Andiamo avanti Common 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 Acceleratore Fiammato Fiammato Vulcanico E poi Rivivificazione Salamagna Va bene Andiamo avanti Qua Dopo adesso Guardiamo un attimino Quante buste ci rimangono Common 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 Percussione Anulare Vulcanica Adesso vediamo un attimino Quante buste ci rimangono Ci rimangono Ancora Sei buste Mi rimangono ancora Sei buste abbiamo common 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 pugile indovito ombra nulla di nuovo common 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 e salamagna tigre ultra com è un'altra common 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 e il percussione anulare vulcanico ora common 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 e numero c 79 pugile indovito generale Kaiser e pugile e numero 79 pugile indovito nova Kaiser abbiamo trovato il 79 il suo numero caos ok andiamo avanti common 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 e pugile indovito ombra ultima busta common 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 rivivicazione salamagna bene ragazzi questa era diciamo quello che abbiamo sbustato adesso datemi un po' di tempo per raccogliere un po' le idee vediamo cosa salterà fuori da tutto questo rieccoci qua ragazzi o queste qua sono le ultra che ho sbustato o verificato un attimino i prezzi che dire cioè non è andata molto bene allora partendo dal fatto che queste due insieme sono cioè queste due sono 75 centesimi l'una quindi due salamagna tigre 75 centesimi appena questo griffone il griffone esplosione griffone sta a 20 centesimi c'è questa carta qua che non neanche si gioca c'è proprio sta anche a niente poi dopo il pugile indomito qua facciamo 90 centesimi anche se segna 88 facciamo 90 per arrotondare l'unica carta che vale qualcosina in più è la truppa vulcanica che costa 4,50 euro insomma queste carte questa cosa qua che ho trovato è andata un po' di magra stavolta fa niente fa niente perché comunque poteva andarmi decisamente molto peggio non ho trovato la fenice la furiosa fenice ed è un peccato perché comunque quello era un bellissimo mostro secondo me era un mostro con i controcoglioni forse leggermente superiore alla pyrofenix però ragazzi purtroppo le cose non vanno sempre bene come si dice non è sempre domenica quindi niente ragazzi questo era il video spolliciate se vi è piaciuto condividetelo come se non ci fosse un domani iscrivete sotto nei commenti cosa ne pensate in descrizione vedete il link dalla mia pagina facebook e pagina instagram in aggiunta troverete anche le pagine facebook e instagram dei ragazzi dei gamelover che ancora una volta saluto e ringrazio questo era l'ultimo video dedicato ai box che mi hanno gentilmente dato e niente io vi saluto ciao a tutti quanti voi bella bella ciao a tutti ciao a tutti